Buongiorno, ciao amore mio, buongiorno piccola nuvoletta, buongiorno nuvoletta mia, vuoi darmi i baci? Ok, ok, darmi i baci, darmi i baci, ciao! Sei tutto soffice, soffice amore mio, tutto soffice, soffice amore mio, questa pancia soffice morbidissima! Ma i miau silenziosi? Ma i miau silenziosi? E la gattastellina, la gattastellina ha cambiato posto ultimamente ragazzi, non so perché ma questa è diventata la sua nuova copertina, buongiorno! Buongiorno, sì, sì, eccomi qua, eccomi qua, buongiorno gattastellina, sei bellissima gattastellina, sei bellissima gattastellina! Buongiorno ragazze, buongiorno ragazzi, benvenuti in una nuova puntata di Lockdown ad Amsterdam! Mi sto truccando ragazzi, sono arrivate tutte le cose dell'IKEA che avevo ordinato oggi, sono troppo emozionata perché finalmente potrò sistemare l'angolino, questo qua, vi ho messo sul treppiede, l'angolino della mia cabina armadio. Quindi poi vedremo assieme, sono molto contenta, l'unico problema è che non sono assolutamente capace di montare i mobili IKEA, quindi che in realtà avevo programmato tutto, ok? Perché arrivassero le cose quando Neil e Andrea erano qui, in modo che appunto mi aiutassero loro, il bello è che, uno, loro non sono riuscite a venire, due, IKEA ha ritardato tantissimo, quindi in ogni caso avrei dovuto montare tutto da sola, oggi proviamo ragazzi! Quindi vedremo che cosa combinerò, ma sono molto contenta finalmente di poter avere un pochino di spazio in più e sistemiamo tutto, anche se non l'ho preso le misure, quindi vedremo come sarà. Allora ragazzi, ho applicato sempre il solito primer di Fenty con cui mi trovo benissimo e adesso il fondotinta nudissimo di Diego Dalla Palma. Come sapete, anche se siamo praticamente in lockdown e non c'è tantissimo da fare perché è tutto chiuso, mi piace comunque truccarmi. In realtà una cosina devo andare a fare adesso, prima di metterci a costruire i nostri mobili IKEA, devo andare al centro Vodafone perché ho cambiato telefono e avevo l'iSIM, cioè una SIM elettronica sul telefono e non posso trasferirla io, ma devono farlo loro. Quindi per fortuna ho scoperto che gli store Vodafone sono aperti, anche se non per i classici acquisti perché appunto tutti i negozi sono chiusi, ma sono aperti per assistenza eccetera. Quindi dovrei riuscire a risolvere questo oggi così, finalmente sul nuovo iPhone che è il 12 Pro, non Max 12 Pro normale perché il Max è troppo grande per me, ma finalmente avrò anche la mia scheda olandese perché adesso ho solo quella italiana, è un po' un caos avere due schede. Tra l'altro sto ancora decidendo se la riga in mezzo mi piace oppure no, forse la preferisco sul lato però mi dicono tutti che sia completamente fuori moda, è vera questa cosa? Siete d'accordo? Ma perché sembro così bianca oggi con questo fondotinta ragazzi? Io non lo so. Comunque purtroppo si è già sciolta tutta quanta la neve che c'era ragazzi, mi sono svegliata ieri mattina, cioè sono andata a dormire l'altro ieri, cos'era domenica sera, con la neve in terrazzo, mi sono svegliata lunedì mattina che la neve se n'era andata tutta completamente perché si sono alzate tantissimo le temperature da un giorno all'altro praticamente e in più per questo weekend prevedono 15 gradi e sole, quindi sono molto molto contenta. I canali non sono più ghiacciati e decisamente non siamo più sotto lo zero come temperature quindi non devo neanche più vestirmi come un, non lo so, un classico mino michelin prima di uscire ma posso semplicemente mettermi il cappotto anche così e uscire tranquillamente perché con meno 12, meno 13 ragazzi non è facilissimo, non è facilissimo uscire e vestirsi tra l'altro almeno non rischierò di ammazzarmi ogni due metri perché la città era completamente, completamente coperta da una lastra di ghiaccio e vi giuro che più e più volte ho rischiato di cadere non so come ho fatto, non sono caduta ma ho rischiato grosso quindi oggi invece riusciamo a camminare normalmente altra cosina da fare andremo al supermercato perché ci sono un paio di cose che devo prendere quindi vado from store supermercato e poi torneremo a casa, io rido perché vi giuro io spero di essere in grado di montare sto mobile, ci proviamo che in realtà è un mobile cioè una scarpiera e poi in più ho anche un extra, uno scaffale extra sia per la scarpiera doppia che ho già qui che per la scarpiera nuova che ho comprato quindi io penso che ci metteremo un bel po' praticamente tutta la giornata a montare ste cose, ok ragazzi allora correttore oggi uso il cover bomb di Wicon volevo specificare comunque una cosa perché nell'ultimo vlog avevo menzionato che appunto non ero riuscita a filmare per diverse ore perché avevo visto una persona quindi non avevo la videocamera con me eccetera eccetera e in molti mi hanno detto di che se non parlo delle mie cose private non dovrei neanche proprio menzionare minimamente neanche che ho visto una persona, ma ragazzi posso dirvi la verità? visto che sono io a decidere sul mio canale che cosa voglio condividere con voi penso anche di poter condividere il fatto che magari ho visto una persona, ok, con i miei follower perché magari glielo voglio dire, ok, senza però necessariamente spiegare nome, cioè dire nome, cognome, inquadrare eccetera eccetera quindi non necessariamente penso che io debba dire ho tutto o niente penso che sia anche carino poter dire ai miei follower magari ho visto qualcuno appunto senza entrare nei minimi dettagli e nei minimi particolari, però mi sembra anche giusto nei vlog, visto che comunque se filmo un vlog raramente salto molte ore di filmato e mi sembra anche giusto farvelo sapere insomma, quindi non sono d'accordo con il fatto che se non parlo della mia vita privata non devo neanche menzionare il fatto che esco con una persona, non so perché ma a parte che dall'anno scorso da quando è esploso il covid, cioè nascono polemiche su youtube veramente per tutto c'è praticamente una polemica ogni nuovo video, però volevo specificarla questa cosa perché se mi va sul mio canale di dire a chi mi segue appunto che ho visto una persona magari perché sono così contenta appunto mi è andato di dirlo in un video non significa che io per questo debba appunto andare nei dettagli, posso anche dire soltanto questo penso che a fare quello che ti senti di fare non si sbagli mai insomma quindi se mi sento di condividere che vedo qualcuno condivido che vedo qualcuno se non mi sento di condividere che vedo qualcuno non condivido qualcuno se mi sentirò di condividere anche il nome, il cognome eccetera 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 appunto lo farò, però per il momento mi è, non lo so, mi è andato di raccontarvelo come terra uso quella di Mulac che mi piace veramente moltissimo e l'applico con il pennello Too Faced che sto adorando per il contouring importante non scendere mai troppo in basso con la terra e con il blush mi raccomando ragazzi perché invecchia tantissimo adesso contouring anche un pochino sul naso perché il mio naso è una cosa incredibile se non faccio il contouring sembra enorme non lo riconosco neanch'io a volte dopo aver fatto il contouring perché cambia tantissimo e penso sia per questo che un sacco di gente è convinta che io mi sia rifatta il naso quando in realtà ho semplicemente iniziato a fare il contouring se andassi veramente a rifarmi il naso lo farei un pochino più carino onestamente di quello che ho quindi no, non ho rifatto il naso ragazzi perché mi viene chiesto sempre cioè è una cosa che è una di quelle domande che sono un evergreen sul mio canale ti sei rifatta il naso? no, non mi sono rifatta il naso ok, adesso blush ho applicato, non ve l'ho detto ma ho applicato quello di Diego Dalla Palma questa è la polvere compatta per guance numero 11 volevo anche menzionare un fatto ragazzi sto usando solo per pulirmi le mani in realtà mentre mi trucco queste saliettine struccanti di Demacup ma sono terribili perché hanno tipo un non lo so è come se avessero una crema idratante sulla salviettina e sono super super non appiccicose ma sono super ti lasciano questa patina non lo so sono terribili e ne ho prese diverse quindi adesso devo usarle ma sono terribili comunque volevo menzionare anche il fatto che anzi facciamo anche un po' di contouring al viso in realtà volevo menzionare anche il fatto che mi avete chiesto di fare vlog super super lunghi quindi io vi avviso che questo vlog sarà super super lungo e adesso sono cavoli vostri no sto scherzando spero di riuscire a farlo lungo perché in realtà quando li filmo non so mai quanto sono lunghi e poi in realtà a volte a fine giornata sono convinta di non aver filmato nulla e poi ne esce un vlog tipo di un'ora e a volte è il contrario sono convinta di aver filmato tanto e in realtà poi ho filmato pochissimo quindi cercherò cercherò ragazzi visto che la maggior parte di voi mi dice di fare vlog super super lunghi cercherò già questo video di farlo super 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 lungo e che ho sempre paura di annoiarvi magari con qualche bu con qualche dettaglio o qualcosa ho sempre paura magari di annoiarvi e quindi non voglio magari a volte non accendo la videocamera perché penso boh magari che vi frega di questa cosa poi invece magari potrebbe essere carino parlarvene non lo so quindi proverò a fare assolutamente vlog più lunghi ragazzi adesso con la beauty blender sfumo un pochino la terra per le sopracciglia uso il gimme brow di benefit in colorazione 2 questo è molto semplice da utilizzare più semplice di una matita in realtà da un pochino meno coprenza però mi pettina bene le ciglia e per un effetto naturale è fantastico poi prendo una matita per le sopracciglia questa è quella di She Glam è la skinny brow pencil e vado semplicemente a disegnare la codina del sopracciglio e do un po' di definizione alla parte esterna lo so mi sembra che già il numero 2 con questa matita sia parecchio scuretto per le mie sopracciglia onestamente dove mascara applico il Maybelline Sky High sto amando questo mascara lo sapete ve ne ho già parlato l'unico problemino che ha è che tende a fare i grumoletti quindi bisogna veramente stare molto molto attenti perché una volta che si formano i grumoletti è un po' difficile poi pettinare le ciglia il bello è che da quando ragazzi utilizzo i sieri per le ciglia le mie ciglia sono cresciute tantissimo cioè come se non ho notato tantissimo volume devo dire ma ho notato decisamente che sono più lunghe rispetto alla mia norma cioè anche quando non indosso mascara ho visto veramente tanto 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 la differenza e non mi sembrava vero però è vero che bisogna avere costanza perché ho iniziato a vedere qualche differenza dopo due settimane non prima quindi bisogna veramente dare il tempo alle ciglia di crescere 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 in modo che possiate vedere la differenza però ragazzi se non avete mai utilizzato sieri per le ciglia fatelo specialmente se ve le vedete se le vedete corte non lo so io ho sempre visto le mie ciglia parecchio corte cioè comunque sono folte però corte e vi posso assicurare che cioè ragazzi queste io non ho mai avuto ciglia così lunghe non so se sia vabbè uno è sicuramente il mascara però anche senza mascara le vedo più lunghe rispetto al al mio solito ed è una cosa che adoro ho le ciglia talmente lunghe che vanno a toccare l'arcata sopraccigliare e si piegano cioè ed è un problema che io non ho assolutamente mai avuto ve lo posso garantire è il siero che sto utilizzando è quello di hair bars vi avevo dato anche un codice sconto su instagram spray fissante uso il the porefessional super setter questo è di benefit è il nuovo spray fissante che da quando mi è arrivato sto usando praticamente solo questo mi ci sto trovando molto molto bene fatto ragazzi trucco completato che cosa ne dite molto easy molto naturale mi sta piacendo tantissimo il rossetto di mellow cosmetics è splendido e con una passata lascia un colore super super pieno eccole qui le cosine dell'ikea che monteremo dopo questa è la scarpiera billy singola che appunto è altissimissimissimissimissima ma sarà non sarà troppo larga perché è la metà di questa che vedete poi mi è arrivato anche finalmente il lo scaffale extra appunto che è questo qui ho preso abbiamo preso lo scolapasta e poi questo invece dovrebbe essere anche lo scaffale extra per la billy singola quindi abbiamo tre cosine da montare tra cui una libreria altissima prima di uscire devo solo sistemare un secondo il letto perché lascio sempre le lenzuola scoperte e la finestra aperta in modo che appunto si arieggi il letto quindi faccio il letto e poi usciamo che è tipo un evento quando posso uscire che ho non solo devo andare al supermercato ragazzi ma devo andare bene a fare due cose anche al Vodafone Store quindi è veramente l'evento del secolo praticamente ecco fatto letto sistemato e adesso esco outfit super easy per uscire veramente solo mezz'oretta ho io in inverno vivo lo sapete ormai io vivo nei miei teddy coat morbidi e caldi e questo è quello bianco più un color panna in realtà sotto semplicemente la felpa quella di Tommy Hilfiger che sto indossando a casa ma appunto non staremmo fuori tantissimo poi ho i leggings neri super super semplici e le all star quelle con le paillettes che adoro e la borsa è la mia chanellina questa è una delle mie preferite in pelle lucida non dimentichiamo la borsa per la spesa tac ok me la dimentico sempre incredibile questo è quello che rimane della neve ragazzi ma ormai non ce n'è più i canali sono ancora un po' ghiacciati in realtà vediamo sì c'è ancora un po' di ghiaccio che deve sciogliersi ma veramente poco poco ormai e questo è Amsterdam nel lockdown che ormai conoscete bene praticamente deserta ogni volta che passo davanti a questa vettrina impazzisco guardate che roba sì c'è qualche tram questo è il bellissimo centro commerciale che è chiuso incredibile come non so se lo vedete no vabbè incredibile come non ci sia nessuno siamo in lockdown ma il catcalling c'è sempre eh tizio che passa e mi fa vabbè non sono cose che apprezzo questo lo sapete e ho visto anche che se ne sta parlando ultimamente un po' di più perché non è non è una cosa cioè è l'ennesima cosa che noi donne dobbiamo tollerare che a cui siamo tristemente abituate ma e non succede solo in Italia non succede ovunque una delle vie principali dello shopping semi deserta ma appunto tutti tutti i negozi sono chiusi questa è un'arboristeria farmacia che è aperta ma per il resto purtroppo è tutto tutto chiuso sono al vodafone store che appunto è chiuso per il pubblico e per l'acquisto però se ci sono appunto difficoltà tecniche e cose del genere sono aperti per fortuna e qui ho entrambi i miei iphone finalmente riesco a risolvere questa cosa adoro tutti questi diversi flavors gusti di tè il mio preferito al momento è questo green iced mint lime ma devo provare anche il mango ho preso giusto un po' di cosine ragazzi tornata a casuccia e nella hall giù ho trovato anche questo pacco che era per me quindi vediamo che cosa c'è non penso purtroppo che sia già la borsa Saint Laurent ma vediamo oh mio dio invece è proprio lei non ci posso credere ragazzi ok l'unboxing però non lo farò in questo video lo faremo nel prossimo nel prossimo vlog farò un video delicato non lo so ditemi voi sono troppo felice e guardate quanto è gigantesca questa borsa è enorme portiamo la borsa di là così vi faccio vedere le cosine che ho preso oggi allora prima cosa che sbuca le patatine queste sono quelle che prendo molto spesso e sono fatte al forno sono buone come quelle fritte però appunto sono al forno poi ho preso c'è una sezione al supermercato che è tutta asiatica e hanno questi ramen che non avevo mai provato e ho preso quelli ai frutti di mare ma ci sono di un sacco di gusti diversi se sono buoni ne prenderò altri poi ho preso le solite brioche prosciutto e formaggio sono stra buone poi ho preso le kinder fette al latte io non posso vivere senza le kinder fette al latte le adoro poi beh questi li intravedete soliti miei caffè ho preso il caramel macchiato che è il mio preferito buonissimo e poi ho preso anche il cappuccino semplice due ho preso due caramel macchiato in realtà poi allora questo è l'antifricio ho preso il 3d white di oral b e poi ho preso affettati ho preso questo che è il pollo appunto super 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 sottile mi piace tantissimo poi sempre affettati ho preso il salame questo è spagnolo e poi vi dicevo sono veramente pazza per questo tè alla menta e lime è buonissimo e poi ho preso due spremute fresche una è all'arancia l'altra è arancia e fragola e poi ho preso questi che non avevo mai visto penso siano una novità pasquale e sono gli M&M's choco eggs e dovrebbero essere tipo degli ovetti di cioccolata con all'interno M&M's a pezzettini o interi forse interi penso saranno buonissimi quindi queste sono le cosine che ho preso oggi non prendo mai tantissime cosine perché è troppo pesante quindi vado piuttosto più spesso e prendo appunto ogni giorno qualcosina e adesso che ho finalmente tolto la la e-sim dal mio vecchio telefono 10S posso finalmente spedirlo indietro alla Apple quindi adesso andiamo a preparare il pacchetto e lo spedisco indietro questa è la situazione del momento ho spostato il tappeto perché è a pelo lungo e mi sarei persa tutte le viti adesso sto montando allora intanto la prima cosa che voglio montare è lo scaffale appunto in alto per andare a ricoprire le scarpe poi monteremo poi arriva la parte più difficile questi sono i progressi per il momento non ho fatto granché ma abbiamo messo queste viti e questi tipo questi tasselli in legno ci siamo lo scaffale è praticamente finito adesso devo solo fissarlo con le ultime viti dall'esterno penso sì da qua e dopodiché è fatto beh questo devo essere onesta è stato molto molto semplice tadan fatto ragazzi finito ed è molto molto meglio adesso infatti sono entrambi alla stessa altezza tra l'altro ho notato che sono stata molto più brava io a montare questo scaffale rispetto ai ragazzi del trasloco che hanno montato il pezzo superiore al contrario infatti si vedono tutti questi tappini grigi di plastica e anche la scritta che andrebbe in realtà sopra perché appunto così è molto più ordinato è molto meglio quindi dovrò orestamente dovrò smontare perché adesso che l'ho notata sta cosa mi disturbano tantissimo quindi dovrò smontare entrambe e rimetterle a posto perché appunto è molto molto più bello così e adesso ragazzi ci mettiamo al lavoro con il mega scatolone per andare a montare la billy che metterò al centro sposteremo queste due verso sinistra in realtà mi dispiaceva un po' andare a chiudere le prese di corrente però qui ce ne sono altre due quindi se le sposto verso cioè come erano prima quindi tutte verso un lato comunque avrei perso quelle due prese ma in realtà ci sono parecchie prese elettriche in questa stanza quindi anche se le copriamo quelle va più che bene ho calcolato che comunque la porta riesco ad aprirla anche se appunto le spostiamo un pochino verso sinistra quindi non dovrebbe essere un problema e sì adesso mettiamoci al lavoro e vediamo se sono capace di montarla da sola quando vedo tutte queste viti bulloni e cose varie mi spavento perché mi sembra un sacco di roba vabbè iniziamo allora abbiamo bisogno di 16 di questi cosini di legno e dobbiamo mettere quindi questi tipo questi tasselli sui lati di questo e di tre di questi presumo inseriti tutti questi tassellini di legno adesso ho preparato invece questi che sono i laterali e andiamo a metterci tutte queste vitine è sempre un'impresa capire di che tipo di vite si tratta penso sia questa questa non ci voleva ho rotto praticamente ups un po' questo pezzetto vabbè forse non si vedrà risolto ragazzi non si vede assolutamente ok e ho finito messe tutte queste viti e adesso siamo a buon punto spero ragazzi finito guardate che meraviglia sono stra fiera perché sono riuscita veramente cioè non avevo neanche preso le misure ragazzi guardate quanto spazio mi avanza da questa parte ci sta alla perfezione devo dire alla perfezione e da veramente un senso di continuità solo che in qualche modo devo secondo me magari bloccarli assieme perché la casa essendo molto antica non è proprio drittissima quindi un pochino si vede appunto che c'è uno spazietto però tutto sommato sono vi faccio vedere meglio tutto sommato sono super 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 contenta le mie borsette stanno un pochino più comode anche se devo ancora in realtà dovevo lasciare lo spazio per la Saint Laurent nuova e non l'ho lasciato comunque riorganizzeremo però per il momento appunto messo gli stivali di Bottega Veneta lì in basso poi la Valentino la Louis Vuitton di cui non mi ricordo mai il nome Pochette Métis può darsi Pochette Métis poi c'è la Mini Chanel lo zainetto e altri stivaletti in alto che non sapevo dove mettere così non ho più scarpe in giro fantastico e adesso metto aiuto metto un po' in ordine perché questa stanza è un disastro stavo facendo l'anteprima e nel frattempo è venuta a trovarmi Gata Stellina Gata Stellina con uno slancio di affetto inspiegabile Gata Stellina oh scogliatolina affettuosa Gata Stellina cosa fai Gata Stellina è il risultato finale in realtà c'era ancora una mensolina che non avevo visto che dovevo aggiungere quindi questa è la sistemazione finale ragazzi di tutte le borse e delle scarpe super 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 happy sono un uomo che ci serve sono capace di fare tutto magari ci metto il doppio del tempo ma ce l'ho fatta a giudicare dall'insistenza di Gato Denver e Gata Stellina penso sia arrivata l'ora della pappa sì Gato Denver sì ho fatto super rifornimento di pappa e snack per gatti e oggi abbiamo Almonature tonno e gamberetti ecco qua per Gato Denver è per Gata Stellina vieni Gata Stellina tieni Gata Stellina tieni Gata Stellina buon appetito il bello è che ad un certo punto Gata Stellina vuole andare a mangiare quello che sta mangiando Denver e Denver poverino la lascia fare e quindi poi prende e va a mangiare nella ciotola di Gata Stellina quindi irrimediabilmente quasi sempre dopo un po' li trovo che si sono scambiati le ciotole vabbè hanno una loro logica è giusto in tempo subito subito è arrivata la mia cenetta ragazzi wow ho ordinato una focaccia come antipasto ma non mi aspettavo che fosse così gigantesca oh mio dio pensavo fosse solo un pezzettino di focaccia invece una intera e in realtà non riuscirò mai a finire tutta sta roba wow ragazzi c'è è enorme questa porzione vabbè quindi c'è cibo per quattro questa e la pasta sono pennette al forno con pomodoro mozzarella besciamella e ancora qualcos'altro comunque il profumino è buonissimo quindi buon appetito a me ragazzi guardate che meraviglia poi ho preso anche il tartufo al cioccolato c'è anche la panna ma si è un po' spiaccicato nel trasporto onestamente non so come sarà ragazzi sto per esplodere sono riuscita a mangiare metà di quella porzione di pasta al forno che era deliziosa però decisamente troppo non ce la facevo più non sono riuscita neanche a mangiare il tartufo ma forse lo finirò tra un po' perché adesso mi metterò il montaggio di questo video in realtà dopo cena se devo essere proprio onesta con voi mi è venuta un po' di malinconia e quando mi capita mi capita sempre dopo cena non so perché ma è giusto che io sia anche non voglio dire onesta perché anche se mi tenessi dentro magari qualche preoccupazione non sarei meno onesta però forse è vera e voglio essere vera con voi e dirvi che comunque anche io a volte la patisco questa situazione perché cerco di ricordarmi sempre che comunque non posso veramente lamentarmi di nulla perché sono fortunatissima però a volte penso mi manca viaggiare mi manca mi mancano i miei amici mi manca poter uscire andare al ristorante qui i ristoranti sono chiusi da inizio ottobre se ci pensate quindi non cioè ormai è una vita e negozi uguale ma non è tanto quello proprio il fatto di non sapere la gata stellina che va alla toilette proprio adesso proprio il fatto di non sapere quando questa cosa finirà di non avere una certezza non lo so ho sempre un po' paura che la vita non torni ad essere esattamente quella che era prima e questa tra tutte è la cosa che più mi spaventa se devo essere sincera e che non voglio mai dirlo magari nei video se mi sento giù a volte perché comunque psicologicamente non è semplice farsi tutti i lockdown da soli però d'altra parte quando mi viene un po' la voglia di lamentarmi no o quando penso che le cose potrebbero essere di nuovo magari difficili perché già sono difficili perché noi bene o male siamo in lockdown qui ma quando penso però alle situazioni difficili cioè le temo un pochino però d'altra parte so che ogni volta che è stato difficile ne sono uscita mille volte più forte quindi da una parte vorrei diventare la versione ancora migliore di me stessa perché alla fine nei momenti difficili si cresce tantissimo e quindi so che quello che affronto comunque mi fa crescere e da una parte questa cosa mi piace anche se appunto ho paura della sofferenza da una parte però d'altra parte so che ne esco sempre mille volte più motivata più forte eccetera però sì a volte mi prende un po' questa malinconia ma cerco cerco di trasformarla in qualcosa di positivo cercando sempre di ricordarmi che sono comunque fortunatissima e appunto per questo non voglio mai menzionarla nei video questa cosa perché non vorrei passare per quella che si lamenta quando in realtà in confronto tantissime persone stanno soffrendo veramente non ho nulla di cui lamentarmi però psicologicamente non è semplice vi devo dire e a volte mi sono un po' scoraggiata per esempio appunto non potrò andare a fare il viaggio che dovevo fare che per me era un viaggio importantissimo che è stato ovviamente già rimandato l'anno scorso ed è stato rimandato nuovamente quest'anno che in realtà potrei anche partire il discorso è che non mi sentirei molto a posto con me stessa se dovessi partire e non è proprio un'emergenza e anche in Italia stessa cosa potrei andare però devo andarci per forza però se aspetto un mesetto in più non succede niente quindi mi sento più in pace con me stessa cercare appunto di viaggiare il meno possibile eccetera ma sì è difficile è difficile quindi fatemi sapere come fate voi a tirarvi su il morale quando vi sentite un po' giù specialmente se come me state facendo il lockdown o avete fatto il lockdown da soli e sì a volte ho bisogno di sentire la vostra vicinanza in alcuni momenti veramente ragazzi quindi niente adesso veramente perché è tardissimo vi metterò al montaggio di questo video io vi mando un bacio gigantissimo vi abbraccio venite qua che vi prendo vi abbraccio forte 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 e vi aspetto sempre puntualissimi domani alle 17.30 ciao ciao